Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò del fermo amministrativo. Quando una cartella di pagamento non viene pagata, oppure rateizzata, oppure ancora non si è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. Tra le ulteriori azioni che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c'è appunto il fermo amministrativo. L'Agenzia delle Entrate Riscossione può infatti disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel pubblico registro automobilistico. Prima di procedere, viene dato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che il debitore abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione oppure in mancanza di provvedimenti di cancellazione del debito o di sua sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al pubblico registro automobilistico. Fino a quando non viene saldato il debito, l'uso del veicolo è sanzionato. Il fermo amministrativo non viene iscritto se si dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione che si esercita, oppure se l'auto viene utilizzata per trasportare persone diversamente abili. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace, iscriviti al canale per sostenerlo e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video.